C'era una colonna di fascisti che veniva da Rovagnate, da Bergamasca, da Rovagnate, di lì e andava verso Como e lì passava di Bulciago perché la Como la passava di Bulciago, era l'unica strada asfaltata che c'era. I fascisti venivano da Merate di lì e i partigiani erano posteggiati lì anche a Bulciago, ce n'erano tanti posteggiati. Uno che abitava lì, poco lontano da me, che aveva circa 20 anni, l'hanno ucciso dove c'è la chimica adesso, allora era tutto Prato. L'hanno ucciso lì perché lui e un altro di Bulciaghetto li hanno fatti fuori lì. I morti saranno stati qui a Bulciago, non so, forse un 15 o che, ma ce n'erano tanti anche verso Nibionno, verso Barzago e allora sono venuti il parroco, il Don Canali che c'era allora. E' andato in giro a cercare gli uomini con una scaletta per uno per andare giù a prendere tutti i morti e portarli su al cimitero qua. E dopo il parroco, chi c'è la bicicletta deve andare a avvisare il tizio perché questo viene da Costa Masnaga, bisogna avvisare il papà e la mamma. E lì con le biciclette andavano là. Arrivano qua i genitori al cimitero di Bulciago dove erano là tutti dissanguinati, tutti, ma sapeva che grida, che si... io a casa mia c'è come una salita e insomma sopra quella salita si vede il cimitero, no? Ma di quelle urla. Venivano qua le mamme, erano andate via la sera, avevano niente, il figlio era andato via, magari ieri sera, aveva niente e là tutto insanguinato al cimitero di Bulciago. Grazie.